no 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 oggi parte faccio e se le signore permettono cominciamo da figli nipoti e loro annessi allora alla signorina angela la facciamo una bella a vicenza invece c'erano una bucurella e questo scapucchione di guardiella ci facciamo doppia porzione a domenica invece c'erano sulle pulpette e perché papà che ci fanno? a pepino invece facciamo una piatta regolare marì tu tieni fama? perché sai papà ti resta una ruota sana sana grazie papà è giusto le signorina devono badare alla linea e allora a titina ci facciamo ho stessa piatta di marì e invece a eduardo oi ram a eduardo facciamo una porzione più bella non è portiamo a pascalina grazie Gio oh portiamo a pascala non è portiamo a pascalina mia e a pascalina ho facciamo mangiare direttamente un piatto mio servite pure servite pure buon appetito buon appetito mangiate buon appetito ciao 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 ciao